che sono qui, ma anche c'è gente che ci segue dagli Stati Uniti e da altre parti del mondo. Sono stati già salutati gli ospiti, i relatori, e qui adesso vicino a me il Presidente Amministratore Delegato di Cinecittà, il Dottor Roberto Cicutto, e lo invito a portarci un saluto. Grazie mille, grazie Onorevole, grazie Venerabile Abate, grazie Adrian Paul, grazie Jordan River. Parlando di ponti tra l'Italia e gli Stati Uniti, Cinecittà è un ponte che da quest'anno compie 80 anni. Le relazioni culturali e industriali tra questi due paesi sono molto forti, ricordiamoci l'epoca della Hollywood sul Tevere, ricordiamoci l'amore che il territorio degli Stati Uniti porta per il cinema italiano. Proprio noi, l'anno scorso, assieme alla RAI e ai produttori privati, siamo arrivati a sfiorare l'Oscar con un documentario che parla di ponti e unione, fuoco a mare sulla tragedia dei migranti dal Nord Africa verso le nostre coste. Quindi questo incontro non poteva vedere, a parte il piacere di conoscere personalità straordinarie, Cinecittà fra i presenti. Io mi auguro che attraverso progetti industriali ma culturali finalmente abbiamo capito che il valore della definizione industria-culturale non va a scapito né della parte industriale né della parte culturale e che quindi attraverso questo tipo di scambio perfetto siano salvaguardati i contenuti e sviluppate le relazioni che possono portare ricchezza e benessere ai due paesi. Grazie per avermi invitato e mi auguro che la visita Cinecittà che il Venerabile Abate e gli altri amici faranno dopo questo incontro sia ispiratrice di voglia di lavorarci, di voglia di portare progetti nella linea che abbiamo appena indicato e quindi non posso che dirvi arrivederci a Roma e verrò a salutarvi a Los Angeles. Grazie.